La BC Rich Warlock NJ Deluxe, una chitarra elettrica a 6 corde con struttura neck-through, il corpo in mogano, il manico in acero satinato, la tastiera in ebano con una scala di 25,5 pollici, 24 tasti jumbo, in tarsi, sono logo per lato, punta di lancia al dodicesimo tasto. Monta due pick up and bacher MG8185, ha un controllo per il tono, uno per il volume e un selettore a tre posizioni. Il ponte è folidroso original tremolo, le meccaniche sono gruver. La BC Rich Warlock NJ Deluxe La BC Rich Warlock NJ Deluxe La BC Rich Warlock NJ Deluxe